Il lavoro che salva è il titolo del dibattito che ha chiuso a Bari il tour pugliese della leader della CGL, Susanna Camusso. Costantino Foschini. Una donna di 28 anni sposata ma ancora senza figli e una pistola carica puntata sull'azienda è stata scartata con queste parole a un colloquio di lavoro. Susanna Camusso, segretario generale della CGL, assieme al presidente Vendole e al sindaco Emiliano ha partecipato nella Cittadella della Cultura di Bari a una tavola rotonda intitolata Il lavoro che salva, il ruolo del lavoro nel contrasto alla violenza sulle donne. Sulle scale, su qualche sedia c'erano delle scarpette rosse, simbolo di tutte le donne che non ci sono più, che non siamo riusciti a proteggere. Il lavoro che salva. Perché? Perché il lavoro è la libertà delle persone, la loro identità e la loro possibilità di costruirsi una vita perché in tante occasioni non avere il lavoro, penso in particolare alle donne, ti sottopone alla non essere autonoma, non poter scegliere e quindi anche a subire perché noi pensiamo che non c'è futuro sviluppo di questo paese se non rimettiamo il lavoro al centro. Grazie per la visione! Grazie.